Allora, ragazzi, non vi mentirò, è la seconda volta che provo a registrare questo video per un semplice motivo, io ho un difetto. Uma Turman, continuo a chiamarla Ada Turman. Non so per quale motivo, non so cosa mi sia preso, ma siccome è una figura di merda che faccio sempre, questa volta me la evito e rifaccio tutto il video da capo, tanto fondamentalmente è anche stupidino. Allora, io non so se ve l'ho mai accennato, forse l'ho lasciato trapelare tramite qualche indizio, no? Tipo queste immagini qui che ogni tanto avete visto, magari sfuggite in qualche video, in qualche copertina. Kill Bill per me è stato un film importantissimo. È stato questo per me. Mi ha cambiato in un certo senso. Non perché sia chissà quanto filosofico o per chissà quale strana ragione, semplicemente mi è piaciuto il suo personaggio, mi è piaciuta questa cosa della spada e il costume che tende, diciamo, a rievocare un po' quello stile di Bruce Lee che col tempo si è perso con la sua morte. Ora, Kill Bill l'ho ricordato ieri, il volume 1. Purtroppo non l'ho ricordato al cinema, perché il cinema credo che non verrà trasmesso mai più, dato che è un film di vent'anni fa, e un domani mi comprerò anche il cofanetto, qualche poster. Io devo avere la casa tappezzata di Kill Bill, perché mi è piaciuto un sacco. Però, perché mi è piaciuto così tanto? Perché nella testa malata di quel maledettissimo Quentin Tarantino, Kill Bill è stato un prodotto che metteva all'interno tutto quello che puoi mettere in un film. Un pizzico di storia commovente, un pizzichino di amore, tanta azione, tanto sangue, tanta violenza, tanti sbudellamenti. Ma in una composizione ben precisa. La storia che viene raccontata a tasselli, prima nel presente, poi nel passato, poi tra virgolette nel futuro, che è il presente attuale di quello che è il film. Non vorrei fare troppi spoiler, ma credo che farò spoiler alla fin fine. E man mano che tu guardi questo film di, non voglio dire stronzate, ma quanto, un'ora e mezza, hai un flashbackino lì, il continuo lì, e il mentre qui. E capisci tutto. In un'ora e mezza, che durano per giù in realtà 45 minuti, capisci la trama e ti godi il film. E mi è piaciuto un sacco. Anche con le sue zagnate. Le zagnate sono le cafonate, ok? Kill Bill parla di vendetta. Parla di vendetta perché la sposa, ovvero The Bride, Uma Turman, non Ada Turman, viene uccisa nel giorno del suo matrimonio. O almeno così si pensa. Perché poi si sveglia in ospedale, dal suo coma, e vi giuro che ho pianto perché sono emotivo as fuck, si tocca il ventre e si rende conto di aver perso il bambino. E si mette a piangere. La recitazione di Uma Turman? Ragazzi! Cioè, beh, è fantastica Uma Turman, nei suoi due metri d'altezza. Perciò comincia la caccia alla vendetta. Tarantino, ovviamente, sempre con la sua testa malata, parla un po' di, perdonami, YouTube, grande... Sesso non consenziente di là e sesso non consenziente di là. Con un po' di accenni... Alla P, alla P, no? Quella cosa che si fa con i bambini. Ok? E Uma Turman si incazza come una bestia e va alla caccia alla sua vendetta. E ogni personaggio in Kill Bill ha perso la sua umanità. O un qualcosa della sua umanità, in un modo o nell'altro. E questo ti viene fatto capire. Ma la follia di Tarantino non si ferma lì. Proprio va oltre. Supera i bordi della fantasia con certe scene d'azione. Tipo Uma va a casa di una degli ex mercenari della sua combriccola, io non so come si chiami, non me lo ricordo. Fanno a botte, fanno a coltellate, ma poi arriva la bambina da scuola. Perciò tutto si calma e loro si continuano a dare della troia per tutto il tempo alle spalle della bambina. A un certo punto decidono di preparare un vero e proprio incontro posticipato in modo da prepararsi e combattere. Poi la bellissima donna di colore gli dice Ora, levati dalle scatole perché io voglio fare il latte alla mia bambina che è tornata da scuola. Allora, raggiunge lo scompartimento, prende i cereali e dalla scatola di cereali spara un colpo di pistola. Cosa? Cosa? C'è una scena fuori di testa che mi è piaciuta un sacco, ma poi ce ne saranno almeno 3000 di scene così. Oppure c'è la bellissima attrice Lucy Liu. Mamma mia Lucy Liu, quanto sei bella! Scusatemi. Anche il personaggio di Lucy Liu ha perso la sua umanità. E credo in una maniera ben più terribile di quella di Uma Thurman, ma non è giusto fare comparazioni, dati anche certe cose che io da uomo non posso provare, va bene. Ma Cristo! Ma come gli salta in mente a Taranti... Io non so a chi sia venuta questa idea. Ma come cazzo gli è venuta la genialata di raccontare la storia del personaggio di Lucy Liu tramite un cazzutissimo anime in giapponese inserito nel film. Super splatter, con questi sgricci di sangue ovunque, veramente, è abbastanza aglietto e sangue e fiotte come i peggiori anime horror splatter di questo mondo. Un'altra genialata. Poi vabbè, teste mozzate, la scena di quando Uma combatte gli 88 folli. Cioè, è pieno, è pieno di zozzerie porcate e violenza. E io ve la posso dire una cosa. È una cosa che nel cinema, scusatemi il gioco di parole, abbiamo perso. Ormai non c'è più tutto questo coraggio nel parlare di certi argomenti, nel mostrare la crudità di certe scene che siano come la grandesse che ci ha fatto vedere Tarantino o semplici, non lo so, sparatorie, coltellate, botte. Si è persa questa cosa nel cinema e mi dispiace. Mi dispiace perché Kill Bill, rivederlo di tanto in tanto, nonostante sia un film vecchiotto, a me fa uscire pazzo. Io vorrei che ci fossero più film come Kill Bill volume 1 e volume 2. Ma purtroppo, purtroppo sono tempi persi che io non ho mai vissuto, perché quando è uscito Kill Bill io avevo un anno, quindi è utile che vi sto a dire cazzate. Ma secondo me è arrivato il momento di buttare via tutte queste stronzate femministe che ci va a imboccare Disney, ma non perché siano stronzate, ma perché le fanno trasparire come stronzate. Cioè sono un po' stanco, volete fare la donna forte e indipendente, prendete spunto la Tarantino, prendete una donna alta 2 metri, mettetele dei bellissimi capelli biondi lunghi e una katana di 3 metri. e poi il resto è fatto. E tanto sangue. Sì, tanto sangue. Poi perché no, se magari trovate un'attrice bella almeno quanto Lucy Liu, io, sinceramente, il biglietto ve lo pago il doppio. è stato un po' stanco,